Via Libera, la progettazione definitiva programmata e finanziata dalla struttura contro il distesto idrogeologico guidata dal presidente della regione Nello Busumeci per sbloccare una situazione annosa che riguarda il centro abitato di Tusa. Ancora poche settimane di attesa per il ripristino dei livelli di sicurezza nel versante a valle della via Sant'Agostino e per scongiurare i rischi e pericoli che incombono sul centro della cittadina esattamente nella zona delimitata da via Simone Livolsi. Gli uffici diretti da Maurizio Croce hanno intanto comunicato il risponso della gara a eseguire le indagini e rilievi tecnici utili al progetto esecutivo. Il ragione di un ribasso pari al 53,2% sarà un pool di professionisti diretto dalla Mada Engineering SRL di Catania. Preoccupante in questi anni il quadro complessivo del sito nel quale sono state riscontrate fratture profonde nella parete rocciosa, consegni molto chiari di spostamento dei massi che potrebbero danneggiare le abitazioni sottostanti e le vie limitrofe. Un altro elemento da tenere in considerazione è la forte esposizione dell'aria agli agenti esogeni e che ha contribuito a determinarle l'instabilità generale tra gli interventi previsti la collocazione di pannelli di rete in fune metallica e la realizzazione di un muro di contenimento oltre a soluzioni mirate per la reggimentazione delle acque superficiali.